Allora, io non lo so, io proprio questo non lo so, se si può definire un grande capolavoro Però io lo so e lo ammetto che è tornato il dio della guerra Ciao ragazzi, qui è Subbit e benvenuti in questo mini gameplay di God of War Il nuovo, il nuovo capitolo della Santa Monica Studio Pregando che non mi becco il copyright perché ci sono parecchi altri youtuber che hanno avuto problemi Ho sbloccato qualcosa Tocco di hell, attacco runico leggero, una rapidità scarica, tutti vicini Ok Hai ottenuto, va bene Attacchi runici, lo devo fare sotto là E lo metto qua Premi per equipaggiarlo Ok, l'ho equipaggiato, perfetto Ok, ho sbloccato tanto, lo so raga Ho sbloccato anche un trofeo, bella mossa Ah ok, vai, continuiamo Raga, comunque è spettacolare questo gioco La prima cosa che capita all'occhio La prima cosa che capita all'occhio Vai, salviamolo Padre, aiuto Tieni duro Presto Non ce la faccio Stai calmo Ci sono quasi Ti prego non farmi vedere scene E lala E lala Vabbè, la difficoltà del nemico è sempre Allora ragazzi, il gameplay come potete vedere già di sé è cambiato Ok, vedete perché se voi avete visto il mio Let's Play di God of War 3 Remastered Come potete ben vedere è già cambiato tutto Questa è come se fosse la furia di Sparta, come se fosse Beh, almeno comunque mi ha dato un buon video, no? Ok, vai, vai, Kratos, vai Ehi, cazzo, per la miseria So, so, so bastardi sti cosi, ah Eh, lo so, sono rompipalle Però fai con l'attacco potente Ragazzi, attacco potente Ricordatevi che è R2 Vai, mossa finale Quella cosa, quel carisma Quel carisma che aveva Kratos L'hanno lasciato e come? La vita, raga, è questa Possiamo anche richiamare l'ascia, come potete ben vedere Leviamo questi, va Strada per la montagna Ho sbloccato anche un altro percorso Vabbè, raga Diciamo che io più di così non vi posso far vedere Diciamo che è un mini gameplay Comunque Eh, aspettate, lo faccio così, va Vedete il vecchio e il nuovo Kratos, com'è? Eh, raga, purtroppo Questa è la mitologia dei vichinghi Non è la mitologia greca Che tutti quanti abbiamo amato Kratos Vabbè, ragazzi Io il video lo posso pure chiudere qua Lo so che è breve Perdonatemi Però Molti youtuber hanno problemi anche di copyright Perché il gioco è nuovo E mo spero che io non mi becco il copyright Proprio per il gioco Però ragazzi, avete visto? Allora ve lo faccio rivedere Io mo sto così, no? Sto premendo L2 Vado qua in R2 Tiro quest'ascia Io potrei anche andare avanti di pugni Se potete ben vedere Ora la richiamo Guardate Si preme triangolo Questi sono attacchi normali Quella che avete visto è la furia di Kratos Chiamiamola furia di Sparta E questo è l'attacco pesante Quindi ragazzi Questo Oh, ah Ci sono anche altra roba qua Non c'è la vita Però purtroppo così è fatta Vabbè ragazzi Io continuo a giocarci Vi invito a lasciarvi un bel mi piace Un commento Iscrivetevi al canale Qua da Subbit è tutto E noi ci vediamo al prossimo video Ciao